Il lunghissimo scambio, Mari, c'è Raolo questa volta, buca il muro e porta a casa il punto numero 25, finisce 3 a 0 il match. L'ex Fasano espugna il Franceschino Filpo con la sua Milani. I ragazzi di Coach Perry conquistano tre punti vincendo per 3 a 0 il match, 25-22, 25-16, 25-21 lo score. Malgrado il risultato sia così netto, in realtà la Allianz o Finasvolley di Castrovilla rivende cara la pelle, soprattutto nelle fasi iniziali dei set. Parte a razzo il sestetto di Coach Trudo nel primo parziale, andando in vantaggio anche di 6 punti. Poi però, quando la Milani schiaccia sull'acceleratore, crea gioco veloce mettendo in difficoltà la difesa locale. Secondo e terzo set sono in effetti la fotocopia del primo, dove uno scatenato Berardi mette a segno la maggior parte dei punti della sua squadra, forzando dalla banda sulle mani del muro ospite. Anche se perde alla fine il match, la Allianz comincia a mostrare bel gioco, grazie all'intesa che il palleggiatore Oliveto è riuscito a creare con Bonifati, Quercia, Pavão e soprattutto Berardi.